Alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha aperto le porte il Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo, nella sua nuova sede nell'ex mattatoio comunale all'Aquila, completamente ristrutturato e ripensato per questa sua nuova funzione. Lavori di ristrutturazione all'avanguardia per le tecnologie antisismiche è un percorso di grande fascino, con una selezione di oltre 100 opere, tra sculture, pale, opere, linee, dipinti ed arte orafa. Tutte opere d'arte restituite agli aquilani, ma anche a tutta la comunità internazionale. Un evento emozionante, infatti, non solo per l'importanza del progetto museografico e museologico, per l'eccellenza dei lavori strutturali e di restauro, per il valore storico-artistico delle opere esposte, ma anche e soprattutto per il significato che esso assume per la città dell'Aquila. Opere a lungo rimaste invisibili ed ora tornate in uno spazio museale voluto proprio dal Ministero per i beni culturali, per dare un forte segnale di ripresa in attesa del pieno recupero del Castello Cinquecentesco, sede storica del museo, profondamente ferito dal sisma. Quando riapre un grande museo è sempre un giorno di festa, quando poi un grande museo come il Museo Nazionale d'Abruzzo riapre all'Aquila è doppiamento una giornata di festa, perché è una restituzione alla città, è una restituzione al paese, è una battaglia vinta con un museo che riapre con opere straordinarie, con una bellissima collezione, in un allestimento nuovo, che consente anche di esporre opere che non erano mai state esposte nella precedente sede, davvero è un pezzo importantissimo della ricostruzione dell'Aquila e della restituzione dell'Aquila e del suo patrimonio a tutto il mondo. Questo è un museo di rilevanza europea, è un museo che racconta della grande arte, della grande arte finora assolutamente sconosciuta, poco nota, poco studiata, poco apprezzata, poco compresa, ed è per me un grandissimo motivo di orgoglio oggi mostrare finalmente questi capolavori che ho avuto modo negli ultimi sei anni di esibire a piccole mostre tematiche che ho portato un po' in giro, ma adesso vederli qui riuniti assieme ad altre opere che sono appena tornate dai laboratori di restauro e dai depositi, per me è un motivo di orgoglio veramente grandissimo.